Oggi venerdì c'è il Super G di Kitzbühel, ma tutti gli occhi del mondo sono puntati a Usselio dove c'è Super G ragazzi della provincia di Torino. Per alcuni è il primo Super G della loro carriera agonistica, ma non c'è pista migliore per iniziare. Perchè questa è bella, affilante, larga, la neve è stupenda, quindi ci sarà solo da divertirsi. Speriamo che la dietro rimanga spiacciata. Buongiorno, la mia settimana bianca è al termine, oggi pago l'extra e me ne vado, frigo bar e torno a casa pronto a ripartire per una nuova settimana bianca. Buongiorno, la mia settimana bianca è al termine, oggi pago l'extra e me ne vado, frigo bar e torno a ripartire per una nuova settimana. Buongiorno, il bianca è il bianca è il bianca. Tu nel blog? Si! Questo cappellino mi sembri quelli di Chernobyl. Ma il baffo, guarda il baffo! Il baffo da Von Groeningen, ma il cappello è quello di Chernobyl. L'hai vista con la serie? Uguale, uguale! Amate! Guarda bene, poi la prepista è fatta. Perché? Sei tu? Bola! Ciao Pac, c'è nuvolo oggi, come facciamo? Scendiamo lo stesso, spingi, soffia. Soffiamo. Hai visto che bel colore? L'abbiamo verniciata bene, eh? Ciao Tissi! No, questo è il! Com'è, Pac? Va bene, e te? Ma no! Madonna! Hai visto che pista qua? Che bello! Ecco che kids qua! Ritmo altissimo oggi! Ciao! Ciao più! Un piedi, no? no! ha perso uno sci no! star stop! no! star stop! star stop! star stop un attimo partenza che paura no! star stop! ha rotto un palo star stop! no! è caduto! star stop! oh! gli ho detto agli allenatori se si ferma non! non! Grazie.